Ciao ragazze, siete cariche oggi? Torniamo in palestra? Ok, oggi iniziamo con un circuito, total body, brucia grassi, 120 ripetizioni totali quindi andremo ad eseguire 6 esercizi da 10 ripetizioni 1, ripetuto per 2 volte Andiamo! Eccoci qua, allora partiamo! Iniziamo con 10 minuti di riscaldamento, quindi 10 minuti di corsetta sul posto piuttosto che salto della corda, piuttosto che dei jumping jacks Inutile dire che in questo World indosserò i miei B-Good della nuova linea V-Fit con questo fantastico mattino che avvolge sulla mia gatto Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Grazie a tutti